L'ultimo impegno stagionale del 2016 per il GM Europa Ovini è stato caratterizzato dalla grande grinta e dalla volontà di mettersi ulteriormente in mostra anche al cospetto di squadre World Tour. Il Gran Premio Bruno Beghelli, la formazione Black & Green è stata l'unica continental presente al Via ed è riuscita a mettersi in evidenza grazie a una fuga di circa 150 km portata avanti da Andrea Ruscetta. Il Corridore Molisano è stato fautore della principale azione di giornata nella quale erano presenti altri sei atleti. Grazie a questa fuga Ruscetta è riuscito a conquistare la classifica dei traguardi volanti. Sono stato protagonista della fuga di giornata, eravamo in sette, la fuga è durata 150 km. Ho approfittato della fuga per prendere i traguardi volanti e quindi sono molto contento anche perché è una corsa importante e mettersi in mostra è sempre bello. Oggi poi eravamo l'unica squadra continental presente al Via e penso che abbiamo onorato al meglio l'invito. Siamo stati protagonisti della fuga, abbiamo vinto i traguardi volanti quindi penso che più di così non potevamo chiedere. Grazie a tutti.